Se non lo vedo, chiamo, è questo il nuovo servizio attivato dal comune di Arezzo negli asili e nei nidi gestiti direttamente dall'ente. L'obiettivo è di facile intuizione, se i bambini non sono presenti in classe i genitori vengono immediatamente avvertiti. L'iniziativa è stata attivata dall'amministrazione comunale in sintonia con la regione toscana e tocca un tema più che mai attuale, quello dei bambini dimenticati. Un dramma che nel tempo si è verificato e in alcuni casi ha dato esiti drammatici, ha dichiarato l'assessore alle politiche di coesione sociale, familiari e scolastiche Lucia Tanti. In caso di mancata comunicazione da parte della famiglia dell'assenza di un bambino da scuola, spiega Tanti, i genitori saranno chiamati direttamente al cellulare. È un'iniziativa che giudico importantissima e che carica di un'ulteriore e delicata responsabilità gli educatori. Il servizio prosegue, è già operativo e in questo primo periodo sono stati pochi casi comunque registrati da parte degli educatori in cui i genitori non avevano avvisato che i figli non sarebbero andati a scuola. Si è trattato sempre di una semplice dimenticanza. Questo aspetto mi dà lo spunto per un appello alla collaborazione. Chiedo allora ai genitori, conclude Lucia Tanti, avvisate preventivamente. Sarà più facile così gestire questo servizio di straordinaria rilevanza. Grazie a tutti.